Scegli chi dedica tempo alla propria crescita. Quello immobiliare è un mercato in continua evoluzione dove non è solo il quadro giuridico a cambiare. Abitudini, visioni di vita, conformazioni familiari, soluzioni finanziarie e concorrenza sono davvero tanti i fattori che contribuiscono a mutare costantemente il territorio nel quale operiamo noi agenti immobiliari. La nostra figura professionale incarna diverse risposte ai bisogni delle persone. Necessità che non si esauriscono solo nel vendere o mettere a listina un immobile, ma che richiedono doti comunicative, relazionali e strategiche specifiche. E più il mediatore diventa un consulente completo, più è capace di adattarsi garantendo valore per i suoi clienti e per se stesso. Ma questo obiettivo è realizzabile solo investendo in formazione e aggiornamento continuo. Noi nella media immobiliare dedichiamo più di 200 ore all'anno all'aggiornamento e alla formazione del nostro team e questo ci permette di stare al passo per i bisogni emergenti del mercato al quale ci rivolgiamo. Dalle tecniche di comunicazione sulle nuove piattaforme social con particolare attenzione a quelle emergenti. Dalle nuove normative urbanistiche edilizie alle agevolazioni promosse dal governo fino alle procedure di finanziamento più innovativi. Senza dimenticare ovviamente il video marketing immobiliare, la potente strategia che sfrutta la potenza del video emozionale e la velocità dei social network per garantire la massima visibilità nelle ricerche del tuo acquirente ideale. Scegli con cura la tua agenzia immobiliare di fiducia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.